io penso che tra un po siamo agli sgoccioli in quanto la corda troppo tirata alla fine si spezza le bugie hanno le gambe corte si social girano veramente tante cavolate che non si capisce neanche più quale sia il vero o il falso addirittura si parla di una ipotetica definiamola così marcia su roma addirittura assieme a un generale che dice di questa presunta marcia che farà su roma aspettiamo sta marcia su roma allora però perché per stabilire una data e non farla subito se io ho in mente una cosa un dubbio cioè secondo me se questa politica che c'è adesso a me non mi va io mi muovo subito non aspetto vabbè comunque è un mio pensiero giusto giustamente staremo a vedere allora io ho partecipato ho visto alcuni video di questo generale pappalardo in quanto in poche parole anche lui pensa che tutto questo tra virgolette sia una farsa perché vogliono imporre un governo dittatoriale io su queste cose che dice il generale pappalardo poi mi riferisco anche a un'altra persona al greg al morris eccetera eccetera io non ci metto più la mano sul fuoco all'inizio potevo tra virgolette credere credere del 80 per cento di quello che loro dicevano adesso proprio ogni giorno pubblicano 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 3000 video al giorno su youtube sui social eccetera eccetera di cose di cose che non sanno secondo me neanche più loro quale sia la realtà ovviamente loro si informano da fonti che leggono sul web tante volte passano da un argomento all'altro allora un giorno dicono il covid è stato creato faccio un esempio dagli alieni giorno dopo invece vanno pubblicano un video dicendo no però il covid può essere anche dovuto al fatto delle antenne 5g robe di questo gesto facendo solamente degli esempi quindi la gente ovviamente non sa e parlo anche per me non sa più cosa credere se è dovuto al fatto delle 5g se magari dovuto a una guerra economica che c'è tra i vari paesi morris lui non dà mai per scontato quello che lui dice non ci mette mai la mano sul fuoco dice per sentito dire mi hanno riferito questo mi hanno riferito così quindi non lo so sono teorie teorie basate sul sentito dire se noi diciamo che noi italiani siamo un ammasso di pecore e sentiamo il primo che pubblica mettiamo un video e dice ah sì il covid viene dal faccio un esempio è sempre viene da un contatto con un UFO mettiamo allora chi sente questo video dice sì potrebbe essere così ah beh allora sì però dopo questa tal persona il giorno dopo cosa va a dire va a dire un'altra ipotesi un'altra supposizione ma se io ho una mia ipotesi e la voglio proporre a voi continuo per la mia strada non è che il giorno dopo vado a dirne un'altra l'altro fatto che voglio sottolineare è che un giornale il Washington Time riporta appunto che tutto questo sia una farsa mediatica per metterci appunto sotto dittatura questo sono le mie considerazioni e a presto